Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio IGVOLT, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'inscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Oggi, per la prima volta nella storia, tutti i brilli sono riuniti per fare un video davvero speciale. Faremo qualche challenge sul calcio. Ognuno di noi organizzerà una challenge e adesso vi andrò a spiegare la mia. Dovremo fare 5 giri intorno al pallone e poi battere un rigore e chi riuscirà a fare gol farà un punto. Chi farà più punti andrà a vincere la sfida. Avremo 3 tentative testa, quindi 3 gol equivalranno al punteggio perfetto e io ovviamente riuscirò a fare tutti e 3 gol, invece Giorgio riuscirà ad arrivare a malapena a 1. Andiamo a vedere, scrivete qui sotto i commenti se The Giants si merita dislike. E arriviamo a 10.000 like per questa sfida epica. E' uno subito così, pronti via, partiamo subito con un punto. e ora... No 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 no, nervi. Uno, due, tre, quattro, cinque, vai pure! Sono cervicale sui tu casi. Zero per Gats, zero per Gats, zero per Gats. Lui è settimo Brille. Una punta nel culo. Uno, due, tre. Gira anche il pallone, guarda. Attenzione a Spiliquetta sul pallone. Il suo mancino è magico. Ma che schifo di un tristone di merda. Ti fai cagare il cazzo, Serpio. Questo è il più scarso di tutti, ragazzi. Questo qui è il più debole. All'angolino. Secondo me non becca neanche il pallone, cade e si spacca il ginocchio come Strootman. Pallo per noi. Uno, due, tre. Guardate le scoordinatissime, sembra un bufalo. Solo perché sei il suo fratello. Dai, per favore. Mi rifiuto? Mi rifiuto. Adesso scappo il motorino. Uno, due, tre, quattro. Da notare l'atletismo, la fisicità, la potenza. Non vedete neanche il pallone. Un commento a casa. Uno per me, uno per Giorgio, zero per tutti gli altri. Giorgio. Chi è Giorgio? Ragazzi vado, faccio il secondo così Giorgio rimane indietro e perde. E vamos. Uno. Veloce, veloce. Due. Più veloce. Più veloce. Tre. Più veloce. Ma che sei con le gambe molli? Più veloce. Non ci capisco più cazzo. Ne fatti più di cinque però eh. Finché si gira? Fai fermo. Chi va nella mia? Uno. Devi da base, devi da base. Fai la dub mentre giri. Tre. Quattro. Cinque. Fai pure. Col mio look. Col mio look. E Ale addirittura. Non devi girare la palla. Uno. No, puoi anche fare la gira. Due. Tre. Papamok. Quattro. No, l'ombra io. Cinque. Fortissimo Seppi. Gridiamo tutti insieme. Dislike per The Giant. Gridiamolo, gridiamolo. Non sento. E disiscrivetevi. Ma come uno? Due. Tre. Quattro. Cinque. Dura. Ma io non vale. Ma guarda. Ma stiamo scherrando. Quello importa. Il fratello di The Giant. E' Canciapoli. No, 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 no. Questo non vale. Questo non vale. Assolutamente. Giorgio è uno. Perché valgono due mezzi. Ma cosa fai? Cos'è sta cosa che non hai muscoli? Anche in questo caso potrete notare l'atletismo, la potenza, i muscoli, i lardominali, la barba d'Islandese. Cinque. Eccolo. E' lui. No. No. Non vale. Togliamo. E' meno uno per The Giant. E' meno uno per The Giant perché ha calciato il pallone. E' morto. Lo rifà. Lo rifà completamente. Attenzione. Uno. Due. Tre. Quattro. Un'altra palla. Cinque. E' pronto. Gareth. Gareth. Schifero. Ricapitoliamo. Io e Gaz. Uno. Seppi e Nicola. Zero. Uno. Che scatti dì. E invece Giorgio. Giorgio. Meno tre. Uno. Due. 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 Che sto cadendo. Mamma. Ciao. Ciao mamma. Uno. Due. Due. Quattro. Cinque. Super Gaz. Super Saiyan di quinto livello. Attenzione al tiro. Niente. Niente. Rimane a uno Gaz. Rimane a uno Gaz. Adesso ti riprendo. Non riesco a fare la intro. Uno. Due. Uno. Tre. Uno. Quattro. Cinque. Eccolo. Eccolo. Cosa fa. Cosa sta succedendo. Che merda. Fai schifo. Seppi. Disiscrivetevi anche da Seppi. Non solo da The Giant. Che se lo merita. Oh. Se fai ancora il fenomeno. Giuro. che ti picchio. Vittoria. Uno. Ma l'ho fatta già due. Tre. Ma cosa? Quattro. Cinque. Eccolo. Eccolo. Ma no. Ma non ci credo. Ma tre così. Ma cosa? Oh. Ragazzi. No. 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 Io non ci sto. Brailless ha raccolta. Ho detto Brailless. Fortissimo. Ragazzi. Non vale questa cosa. Questa cosa è assai misteriosa. Non può valere questa cosa. No no. Se segno questo. Golden goal. Se segna il green vince lui. Attenzione. Golden goal. Green goal. Che non ha segnato neanche un gol. Uno. Due. Uno. Tre. Uno. Quattro. La birra in corpo. Cinque. Se segna ha vinto. Se segna ha vinto. Che schifo di merda. Che schifo. Ragazzi. No. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Non vale. Abbiamo vinto io e Seppi. Ma vieni proprio qua. A caso. Abbiamo vinto. Cosa vuoi fare. No. Finisci. Finisci. Hai fatto tre rigori di merda. Ragazzi. Con questo video di Calciopoli 2. Sta iniziando adesso. La Roma sarà la prima indagata. Perché ovviamente. Guardate la rappresentanza. Dai chiudi che è caldo. Nicola sta morendo. Una flebo di birra per lui. Non riesce a farmi i tunnel. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così. Vi invito a mettere un pugno di pollice. A scrivervi al mio canale. Qualora l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Che è molto presto. Ciao ragazzi. Dritto per dritto. E vamos. Bye.